Due rapinatori pluri pregiudicati arrestati dalla squadra mobile della questura di Parma. La coppia di banditi era entrata in azione lo scorso 6 maggio al supermercato Cop di via Montanara. Il colpo era stato però sventato dalla pronta reazione di una cassiera che aveva azionato il dispositivo che blocca l'apertura della cassa impedendo così di prelevare denaro. Dopo alcune settimane di indagini gli investigatori di Borgo della Posta sono riusciti ad individuare i malviventi. A finire in manette Raffaele Terminiello, campano, residente a Gattatico in provincia di Reggio Emilia, 37 anni precedenti per spaccio di stupefacenti, guida in stato di ebrezza, incendio e lesioni. Nell'occasione aveva svolto il ruolo di palo. Con lui nei guai anche l'autore materiale della tentata rapina ossia il 47enne Andrea Varagnolo, origini lombarde, residente a Parma, operaio in una cooperativa sociale della città precedenti per reati contro il patrimonio. Per entrambi è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Decisive per le attività di indagine le testimonianze di un ragazzo africano che aveva assistito alla scena e che aveva memorizzato il numero di targa della lancia Ypsilon a bordo della quali i malviventi si erano allontanati in tutta fretta. La vettura risultava di proprietà di Terminiello. Per gli uomini della mobile non è stato così difficile rintracciarlo presso la sua abitazione nel Reggiano. Una volta effettuata poi una perquisizione a bordo della vettura è stata trovata anche la pistola scacciacani che era stata utilizzata per la tentata rapina. Messo alle strette il 37enne dopo aver annegato ogni coinvolgimento nel fatto ha ammesso le sue responsabilità. Le successive verifiche consentivano poi di raggiungere anche l'altro malvivente.